Maxi furto di gratta e vinci al barcaffè. L'incontro di viare medaglie d'oro nel cuore del centro storico. I ladri hanno agito poco dopo le 23 di giovedì sera. Utilizzando un palanchino hanno scardinato la porta d'ingresso. I due malviventi, piuttosto corpulenti, hanno quindi fatto rassia dei biglietti e si sono defilati a bordo di un'auto con un tazzo complice ad attenderli e che faceva da paro durante i pochi minuti sufficienti a realizzare il colpo. Il bar era dotato di un sistema ad allarme che però non ha funzionato. I malviventi, evidentemente, avevano fatto un sopralluogo nel locale poche ore prima quando il titolare aveva ricevuto dal Corriere Espresso la fornitura di biglietti gratta e vinci, esponendoli poi al pubblico. Quindi sono andati a colpo sicuro. Difatti non hanno portato via nessun altro tipo di merce a parte i 5 euro contenuti nella cassa. L'affare era amara scoperta e il mattino successivo è stato il titolare del bar che ha chiamato le forze dell'ordine. Al vaglio degli inquirenti ora le immagini registrate dalle telecamere di sicurezza e che a quanto pare avrebbero ripreso i malviventi in faccia e tutte le fasi del furto. Gli gratta e vinci, una volta validati dopo la ricezione da parte del destinatario, non si possono più bloccare anche risalendo alle matrici. C'è da augurarsi dunque che fra i biglietti portati via dai ladri non ve ne siano di vincenti. Grazie a tutti.